L'API, Associazione delle Piccole Industrie di Teramo, non ci sta alla decisione di assegnare all'Aquila la sede legale della nuova Camera di Commercio che ha accorpato gli enti camerali di Teramo e l'Aquila. Non ci sta perché secondo la circolare del Ministero per lo Sviluppo Economico, in caso di accorpamento la sede legale deve essere attribuita al territorio che conta un numero più alto di imprese. E in questo caso è Teramo ad averne di più, con 42.500 aziende contro le 38.000 dell'Aquilano. Sono dati ufficiali pubblicati nel 2015, nel 2016, c'è un rapporto di oltre il 20% in termini di imprese sul territorio ed è una logica conseguenza che la Camera di Commercio restasse a terra. Perché si è arrivati a questa soluzione? Questo noi l'abbiamo denunciato oramai da diverso tempo, bisogna capire quali sono stati gli accordi trasversali all'interno di questo sistema già messo in campo l'anno scorso, con il contentino di avere la Presidenza, molto in mente, terramana, con una sede secondaria che poi andrà via. Quindi ci sarà l'ennesimo rubacchio, scusate il termine, di risorse che stanno sul territorio. Nella sostanza noi abbiamo perso questa opportunità, bastava semplicemente fare un conteggio, ed è chiaro il numerico che c'è, che il numero maggiore di imprese stanno su questo territorio e ne consegno che la Camera di Commercio, il riferimento, doveva restare su questo territorio. Potrete fare qualcosa con un ricorso per contrastare questa decisione? Ma non credo che possiamo, questa è una semplice associazione di natura imprenditoriale che cerca di stimolare questo meccanismo. È una situazione che non sta all'interno della Camera di Commercio per una volontà ben precisa dell'associazione stessa, perché abbiamo ritenuto che quel meccanismo illogico di ripartizione di sedie e di poltrone non andava bene, pensavamo ad altro, e queste sono le conseguenze che noi ne stiamo pagando i danni, per effetto di una scarsa lungimiranza, una scarsa attenzione, una volontà di combattere, perché la sede all'Aquila, quando nella sostanza il maggiorno di imprese stanno sul territorio terramano. E allora a Teramo cosa resterebbe? Secondo l'API, briciole. Una sede secondaria e transitoria, un presidente terramano in carica solo per un breve periodo, insomma una spogliazione totale della realtà camerale.